E' scattato il primo giorno di chiusura dei cinque combinati al baretto di via 20 Settembre a Palermo. I proprietari hanno smontato il gazebo così come richiesto dal comune. Agata Benenato e i suoi dipendenti hanno inscenato una protesta silenziosa contro quella che ritengono un'azione ingiusta che mette a repentaglio l'attività. Il comune e le associazioni di categoria vengono contestate con un cartello piazzato vicino all'entrata del bar. Il baretto ha chiesto una proroga che evitasse la chiusura ma senza successo. Grazie per la visione!